dello start partiti all'head up dall'esterno con Nepadi e Swift Test i tre superano Vanilla Cream che procede Admiral Force e allora all'head up conduce davanti alla tribuna terreno qui davanti è meno faticoso Brienne Di Tart intanto è in coda e allora sulla curva conduce all'head up che procede Nepadi, Swift Test Admiral Force, Vanilla Cream e Brienne Di Tart si viaggia per coppie quando siamo nella parte sinistra del tracciato all'head up all'esterno Nepadi Swift Test all'esterno Admiral Force, Vanilla Cream all'esterno, Brienne Di Tart a qualche metro dello steccato a cercare strisce evidentemente meno lavorate ma da queste immagini come vediamo il terreno evidenzia la serata di ieri sera e la nottata a San Rossore con la pioggia che è caduta e a questo punto all'head up a metà della dritta nella scia Swift Test all'esterno Nepadi Vanilla Cream all'esterno il compagno di allenamento Admiral Force in coda Brienne Di Tart i sei allungano con all'head up Nepadi Swift Test Vanilla con all'esterno Admiral Force poi Brienne Di Tart quando siamo all'ingresso indirittura con all'head up che prova la fuga da Swift Test Nepadi all'esterno Vanilla Cream e Admiral Force in coda della scia di Admiral Force c'è Brienne Di Tart con all'head up attaccato e superato da Swift Test e Nepadi poi Vanilla Cream che procede sempre Admiral Force e Brienne Di Tart con Swift Test e Nepadi ancora alle prese poi Vanilla Cream Admiral Force Swift Test contro Nepadi fino in fondo Swift Test Nepadi Vanilla Cream 5-4-6 è l'ordine d'arrivo Dario Di Tocco per Iacobini con i colori di Stefano Cappa vittoria di Swift Test che alla fine ha eluso la rincorsa di Nepadi 5-4 terzo Vanilla quarto Admiral Force 5-4-6-1 è tutto grazie a tutti grazie a tutti Dario Di Tocco prima sperava magari in una vittoria nella prova di apertura di capo grazie a tutti grazie a tutti